I popoli sono divisi. Ora, per ristabilire la pace, devo trovare l'ultimo drago. Oh, potente Sisu! Diciamo che non sono il miglior drago. Siamo spacciati. Ora è così che va il mondo. Non puoi fidarti di nessuno. Però forse il mondo è lacerato. Perché non vi fidate di nessuno? Devi fare tu il primo passo. Raya e l'ultimo drago, prossimamente al cinema e dal 5 marzo con accesso VIP per gli abbonati Disney+. Passa.